L'alba su Gaza apparentemente tranquilla, ma nella notte sono andati avanti gli attacchi. L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra gli ultimi controobiettivi di Hamas. Secondo la difesa israeliana, è stata colpita anche la casa del comandante militare di Hamas, Mohamed Deif. Sarebbero rimasti uccisi il padre, il fratello, i figli e altri parenti. Più di 260.000 persone, secondo le Nazioni Unite, sono state costrette a fuggire dalle loro case nella striscia di Gaza, mentre continuano pesanti bombardamenti. Nel quinto giorno di guerra in Medio Oriente, secondo Israele, sono almeno 1.200 i loro morti dall'inizio degli attacchi di Hamas. La gran parte delle perdite è tra i civili, compresi i bambini. Solo nell'attacco all'insediamento di Kfar Aza, a denuncia, sono stati uccisi 40 bambini, anche neonati. Oltre 900 i palestinesi morti negli attacchi israeliani sulla striscia, riferiscono fonti palestinesi. Hamas ha lanciato razzi dal sud del Libano e Israele ha schierato carri armati al confine con il paese e ha riferito che ci sono stati diversi lanci di mortaio anche dalla Siria. Siamo al fianco di Israele, ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca. E il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha dichiarato che sono in corso colloqui con Israele ed Egitto per garantire un passaggio sicuro per i civili di Gaza.